Cosa migliore? Adesso veniamo, cadono da soli, dopo un mese, due mesi, si sciolgono, si aprono. Allora, il dentifricio non ve l'ho messo nel protocollo perché so quanto è pericoloso usare il dentifricio. Ok, il dentifricio fa schiuma e basta. Quello che disinfetta è il colluttorio. Ci sono pazienti che non hanno mai usato il dentifricio ma usano solo spazzolino, polvere di bicarbonato e lavano. I denti naturali che non li hanno mai perduti senza usare i dentifricio. La protesi, sì, non va usato il bicarbonato per le protesi artificiali, le graffia. Quello che usiamo noi è una granulometria di 14 micron che non la graffia. Quello che usate voi, ma se non abbiamo a casa... No, solo per i denti naturali. Vi sto facendo ora un paragone di... Mi hanno chiesto se si usa il dentifricio o no. Il dentifricio ha lo scopo di rinfrescare l'alito, ha lo scopo di fare schiuma e avere la percezione che hai pulito. Poi ci sono anche lì diverse granulometrie, eccetera. Se tu usi il dentifricio e non usi il collutorio, non stai pulendo la bocca. Se tu invece non usi il dentifricio ma usi sempre il collutorio almeno due volte al giorno, stai disinfettando la bocca. Abbatti la carica batterica del 99%. Per esempio il Curacet, il Listerin 98%. Usate il Listerin, il Curacet potrebbe macchiare a lungo tempo. L'importante è che hanno o la clorexidina dentro oppure la Listerina, le Listerine. Sì, però se vai dall'igienista, noi con la spazzolina tu lo uccidiamo, lo stacchiamo. Meglio i denti un po' da smacchiare, però impianti sani, che i denti ammalati, impianti ammalati perché quello non lo... Vai, allora prendi Listerin al market, è sufficiente. Io non lo uso Listerin perché mi sto già venendo l'ulcera, mi sta venendo e quindi è un po' forte per me, ok? Lo faccio una volta al giorno io, ma io ho tutti i miei denti. Quello che lo fa più l'ulcera qual è? Il Curacet, un po' tutti, devi smettere di bere il caffè, non è tanto... Ma si può anche fare uno e l'altro ogni tanto? Puoi anche alternarli, sì. L'importante è che se usate quello, il Listerin, usate quello allo... scusami, il Listerin. Sì, Listerin, quello no alcol, l'hanno fatto. Ok. Poi magari se è troppo forte, come faccio io, lo diluisco un po'. Sennò la notte vedo le stelle. Aspetta, il Curacet o comunque quello con la clorexidina, allo 0,05%, il più basso, voi gli dite il più delicato. Il più delicato e vi dà quello che è il più delicato. L'idropulsore, una domanda che mi fanno sempre, ci va il collutorio dentro? Non mettete niente, se no lo scassate. Acqua, basta. Perché tanto il suo scopo è solamente staccare i pezzi grossi di cibo che si sono incastrati, il riso che è andato là. E l'idropulsore serve solo a allontanare via grossi detriti, piccoli con lo spazzolino e la disinfezione la fate con il collutorio. Dentifricio? No, perché ti spiego come va insegnato a lavare i denti. Devi insegnare al paziente a lavare i denti senza il dentifricio per due settimane e prendere poi la pastiglietta che colora tutta la bocca di viola là dove è sporco. Poi rimane 20 minuti di fronte allo specchio a staccare tutte le parti colorate. In due settimane il cervello ha memorizzato i movimenti. Sai dove devi andare un po' con più intensità. E questo è un consiglio che vi do. Prendete le pastigliette rilevatrici di placa in farmacia. Ce li ha la GAM, ce li ha anche la TEP. Sono quelle che si danno ai bambini che hanno l'apparecchietto ortodontico. Ok, ma così vede dove deve pulire. Anche voi avete la stessa difficoltà dell'apparecchio ortodontico. Meglio se le sporcate tutte. E io lo voglio introdurre anche qua. che facciamo le foto sporcando le protesi. Così avete la foto della protesi con i punti esatti dove sono sporche. Si può fare. Sono 30 secondi. Mastichi la pastiglietta, c'è anche in gocce. Sputi. Ok, facciamo le foto. Perché se no è sporco può essere relativo. Specialmente se poi stampiamo con la stampante bianca e nero le foto. Invece il viola lo vedi dove è proprio sporco. E abbiamo un termine proprio di paragone magari dopo sei mesi quando torna per l'altra pulizia. Non è più sporca e lucida la protesi.